Che cosa vi aspettate che vi dica io di questa partita, tra virgolette? Se i Celtics invece che di Boston fossero di Bossolasco e quindi facessero la LBA, verrebbe da pensare che avevamo bisogno dei biglietti di gara 5. Luka Doncic sotto 0-3, quindi dopo gara 3 in attesa di gara 4, ha detto non è finita finché non è finita, che è il modo edulcorato, politicamente corretto, anni 2024, di dire non è finita finché canta la cicciona, questo si diceva negli anni 90. Ora non lo puoi più dire perché se no la sera dopo ti chiama Cruciani alla zanzara. Però questo era un modo di dire degli anni 90 che si rifaceva all'opera addirittura, lo stereotipo che gli interpreti dell'opera debbano essere sempre per forza comunque leggermente in sovrappeso e c'era quest'opera importante in cui il personaggio femminile protagonista prima di uscire di scena aveva questo canto finale di più di 20 minuti per cui la gente in sala o tentava il suicidio o se no si è inventata questo modo di dire. Non è finita finché canta la cicciona, che poi è diventato di uso comune anche in televisione. Per esempio è il titolo dell'ultimo episodio dell'undicesima stagione di Dallas. Giuro, sembra fatta apposta, ma è così. Dallas è una serie televisiva degli anni 80, quando ancora non esistevano le serie televisive come concetto, come format e però già c'erano al lato pratico. La mia nonna, per esempio, guardava Beautiful, detta sua, che sarebbe stato Beautiful, che credo sia essere la serie televisiva forse l'unica più lunga di Grey's Anatomy, così a occhio, a memoria. Dice, ma perché stai parlando di tutte queste boiate? È perché non c'è altro da dire. All'intervallo di gara 4, Doncic e Kyrie Irving avevano più punti di tutti i Celtics. La partita è finita prima ancora di cominciare. Tant'è vero che io stanotte, stanotte è stata difficile, a un certo punto sarà stato il sonno, sarà stata la disperazione, non lo so. Però ho cominciato ad avvertire un prurito, un malessere, un senso proprio... E lì per lì, da ipocondriaco, io mi sono anche impaurito, perché, insomma, non sai mai... E poi invece ho capito che era una sorta di presentimento, perché mi sono reso conto che avevano più o meno consciamente apparecchiato il palcoscenico perfetto affinché avvenisse il peggio possibile, l'inevitabile. Una partita finita all'interno di una serie finita. È momento suo. Comunque se il primo nella storia a rientrare da 0-3 dovesse essere capo, capite che questo diventa assolutamente un complotto. Cioè, a quel punto di esire... Io ce lo vedo, Silver, a creare gli account falsi, con le mail false, per votare ai ballottaggi del quasi-gaming. Che poi, se ci pensate un attimo, stavo riflettendo. Capo di qua, Carmelo di là, è un problema... Cioè, nel senso, no? Che i personaggi del quasi-gaming si stiano piano piano impossessando della realtà, secondo me è molto pericoloso. La gente ha paura delle intelligenze artificiali che possano nel futuro soverchiare l'essere umano. Ma qui no! E qui sono loro che ci è d'avere paura. Attenzione! Comunque, a parte gli scherzi, al contrario di quello che si dice di solito in questi casi, qui è Boston che ha forzato gara 5. Non hanno giocato. E questo, secondo me, è molto grave. Prima di tutto per il palcoscenico, per l'evento in sé, per l'organizzazione. Perché comunque sei alle finals, secondo me ci vorrebbe un po' più di rispetto nei confronti proprio di tutto l'ambaradà. Io ne ho visto di squadre perdere anche male alle finals, però proprio non essere presenti a palazzo in questo modo qui, secondo me è molto grave. Io forse non l'ho mai visto. E poi, sinceramente, perché rischiare inutilmente in questo modo qui? Sai, posso capire una squadra che ha appena vinto l'anno scorso il 3-pit. Quest'anno va per il quarto anello. È avanti 3-0, a un certo punto ha proprio anche un calo di stimoli, di motivazione. C'è un blackout di energia mentale e va bene. Però questi sono alla ricerca del primo anello. Cioè, ci dovrebbero avere la bava alla bocca. Non me lo spiego. E se posso dire, è colpa dell'allenatore. Non è Mazzulla. Non è sua la questione. Va generalizzata. Quando una squadra qualsiasi non si presenta, la colpa è sempre dell'allenatore. Sempre. E io l'ho sempre detto. Se siete onesti, se seguite il canale da un po' di tempo a questa parte, dovete ammettere che non è che io ce l'ho ora con Mazzulla e vengo a dire questa cosa perché ciò che ce l'ho con Mazzulla. L'ho sempre detta così. Nel momento in cui una squadra tutta non si presenta alla partita, la colpa è dell'allenatore come rappresentante dello staff tecnico in generale. Che non sono riusciti a trasmettere l'urgenza della necessità della vittoria. Quando non si presenta un giocatore, due giocatori, tre giocatori, ma se non si presenta nessuno, la colpa è dello staff tecnico. E non c'entra Mazzulla nello specifico. Voglio che sia chiara questa cosa perché sennò pare che uno... E qui è un contesto più generalizzato. Se si deve parlare della partita di stanotte, poi la serie resta conclusa e sicuramente si finirà con la prossima partita. Ma se devo parlare di gara 4, che si dedi? Ci sono anche degli allenatori che su queste cose ci hanno giocato a suo tempo. Per stimolare delle reazioni da parte del gruppo, i momenti magari particolari di un progetto. Lo vedremo se sarà così, se sarà anche questo, uno di quei casi. Io nutro delle perplessità al riguardo, però mai dire mai. Lo scopriremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni magari. Resta il fatto che secondo me è molto grave questa partita qui. Anche proprio da un punto di vista dell'immagine e della struttura della mentalità di un progetto che punta per stessa ammissione anche di Jason Tatum a essere un qualche cosa di pluriennale. Cioè non è un one and done con questa stagione qui, questa run dei Celtics per l'anello. Secondo me è un bel problema. Poi, oh, dipende anche dai casi. Cioè se fai una figura di genere, se non esci dallo spogliatoio in questo modo qui con Bradovic all'inizio della partita e poi non c'esci più neanche dopo l'intervallo perché nel frattempo tra il primo e il secondo tempo ti ha fatto fuori. Quindi l'unica cosa che ha avuto un senso di questa partita è stata l'inizio. E lì, sinceramente, un Doncic un pochino diverso io l'ho visto. Soprattutto e paradossalmente verrebbe da dire dal punto di vista difensivo. Poi rimane il fatto che se quella rubata a Holiday è diventata l'highlights degli highlights e allora significa che, insomma, no, fa un po' specie, è diventata così famosa perché di solito non succede. Quindi questo è ancora più grave. Sulla questione comportamento e relazione nei confronti degli arbitri non ho molto da dire perché normalmente quando vince e gioca bene non ci letica mai con gli arbitri. Quindi il fatto che stanotte ci abbia letitato meno, quasi per niente, non mi fa testo. Però spero che questo episodio, questa partita, possa magari essere che ne so, l'inizio di una presa di coscienza da parte di Luca Doncic per fare quell'ultimo step che possa permettergli di sbloccare tutto il suo potenziale incredibile e, se vogliamo, anche illimitato. Resta un rischio da parte di Boston che io non mi sarei preso però la serie è finita, comunque. Lui dice è stata la prima vittoria di quattro che ne servono e questo deve dire, ovviamente. Io credo anche che ci creda veramente, cioè che non lo dica solo per dichiarazione di facciata e ovviamente Luca Doncic ci deve fare. Però poi rimane anche il fatto che ci sono anche gli avversari. O meglio, ci saranno anche gli avversari, perché stavolta non ci sono stati. Però in teoria dalla prossima ci dovrebbero essere. Insomma, per me non ci sono i presupposti, non ci sono i margini di manovra affinché si possa arrivare a una foto di Doncic con sfondo grigio, occhiale da sole e cuffiette con il filo bianco. E non soltanto perché ora sarebbero wireless di questi tempi. Grazie. Grazie a tutti.